Lunedì scorso, 26 giugno, il tavolo delle pensioni è ripartito dopo oltre quattro mesi di pausa, e sono previste importanti novità. Il governo e le parti sociali si sono incontrati per riprendere i negoziati e discutere le questioni ancora in sospeso. Uno degli obiettivi principali sarà concentrarsi sulle prospettive dei giovani, promuovendo la cosiddetta staffetta generazionale, che consente il pensionamento anticipato a determinati lavoratori, e lo sviluppo della previdenza complementare. Inoltre, si valuterà la possibilità di introdurre un nuovo periodo di silenzio assenso per il trattamento di fine rapporto, ovvero il TFR. Come emerso dagli incontri precedenti, si prevede che la riforma pensionistica venga attuata gradualmente attraverso misure legislative successive, con l'obiettivo di completarla entro la fine della legislatura. È probabile che venga prorogato il regime pensionistico di quota 103, che rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria, consente un anticipo del requisito anagrafico di ben 5 anni, apportando eventualmente alcune modifiche. Tuttavia, l'obiettivo principale della Lega potrebbe essere considerato il raggiungimento della quota 41, ovvero di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Ciò consentirebbe di andare in pensione con qualche mese di anticipo rispetto a quanto previsto attualmente. Anche se si prevede che il percorso per arrivarci sarà complesso e richiederà molto tempo. Pertanto, è probabile che si ripeta la quota 103 e si continui ad applicare l'ape sociale, che consente uscite anticipate dal lavoro. Potrebbe inoltre essere rivisto l'elenco dei lavoratori usuranti che potrebbero andare in pensione in anticipo. I sindacati, invece, puntano principalmente a un'opzione pensionistica con l'età di 62-63 anni o, in alternativa, con 41 anni di contribuzione. Inoltre, si sta discutendo il tema dell'opzione donna, che cesserà nel 2023 dopo l'adozione del calcolo contributivo dell'assegno limitato solo a un gruppo ristretto di lavoratrici, come stabilito nella recente legge di bilancio. Grazie a tutti!